Quando il loro padre è morto per il covid lui era al suo fianco e i figli di un anziano Brianzolo trovano l'infermiere che lo ha assistito nel momento più difficile e doloroso L'ostello Eremo di Montebarro è il primo covid hotel della provincia di Lecco Ospiterà fino a 10 persone in quarantena Dovranno stare chiusi nelle stanze con vista sui laghi briantei Quinta auto incendiata ad Airuno Il piromane ha colpito ancora questa notte L'ultima vettura si trovava nel posteggio di un condominio del paese Funziona la raccolta puntuale dei rifiuti nel loggionese Vola la differenziata con punte del 91% Nel prossimo anno il servizio sarà esteso a Lecco Buonasera ben ritrovati con un'informazione locale di Unica TV edizione di Lecco Hanno scoperto che il loro padre non era solo quando è morto di covid all'ospedale di Lecco Un infermiere gli è stato vicino Gli ha mostrato le foto dei suoi nipotini Mentre chiudeva gli occhi E allora lo hanno cercato questo infermiere per dirgli grazie E lo hanno trovato La storia commovente di Francesco Frigerio Della sua famiglia E di Emanuele Moretti Che dice Non ho fatto niente di straordinario Ucciso dal covid a 73 anni Si è spento con negli occhi l'immagine dei suoi tre adorati nipoti In qualche modo i suoi cari gli sono stati accanto fino all'ultimo istante Una certezza che non lenisce il dolore ma prova a renderlo meno amaro È la storia di Francesco Frigerio, 73 anni, titolare di un piccolo negozio di genere alimentare a Cesana Brianza È morto lo scorso 24 marzo dopo 11 giorni di ricovero all'ospedale di Lecco Dove in quei giorni era ricoverata anche la moglie, Maria Adele Pochi metri di distanza, dopo 50 anni insieme, li hanno tenuti separati Un destino diverso, lei ce l'ha fatta, lui no Negli ultimi giorni, nei momenti più drammatici della pandemia, le figlie Erminia e Rosita Erano riuscite a recapitare nella hall del Manzoni un biglietto con le fotografie e i messaggi dei nipotini Solo in questi giorni era scoperta che i propri volti di Anna, Francesco Romano e Samuele Hanno accompagnato nell'ultimo viaggio il caro nonno Grazie al racconto di un vicino di letto Erminia ha scoperto che quelle foto gliele aveva mostrate ripetutamente un infermiere del reparto Tenendogli la mano, leggendo nei suoi occhi la certezza di non essere solo Lo hanno cercato a lungo quell'infermiere e lo hanno trovato Si chiama Emanuele Moretti, ha 33 anni, lavora all'ospedale di Lecco E' ancora lì, in trincea Ma non scorda lo sguardo di Francesco Le parole di Erminia sono state un regale inaspettato Ma ha fatto solo il mio dovere Ci siamo sentiti per telefono quando sarà possibile Ci incontreremo, dice Emanuele Ho cercato Emanuele tramite un social per un profondo senso di riconoscenza nei suoi confronti Grazie a lui e al suo gesto Noi oggi abbiamo la certezza che l'ultimo viaggio di mio padre è stato accompagnato dall'immagine dei suoi tre nipotini Che lui adorava Vi chiamava i miei tre gioielli Quello che per l'infermiere è stato un piccolo gesto per noi ha significato moltissimo Non è vero che Emanuele ha compiuto il suo dovere Ha compiuto il suo dovere con umanità E questo fa la differenza in ogni ambito della vita E in particolare là dove si affronta il dolore umano negli ospedali Soprattutto in questo periodo così difficile per tutti Quindi tramite lui Noi vogliamo ringraziare gli operatori, i medici, gli infermieri dell'ospedale di Lecco Che ci sono stati vicini e non ci hanno mai fatto mancare informazioni quando ne avevamo estremamente bisogno E che sicuramente stanno lavorando ancora oggi con la stessa dedizione, con la stessa passione Grazie dal profondo del cuore da parte mia e della mia famiglia Solo una piccola storia che racchiude però un messaggio di speranza e di gratitudine E in qualche modo consola anche noi in questi giorni così bui L'ostello Eremo del Monte Barro ospiterà 10 pazienti affetti da Covid per il periodo di quarantena In attesa di negativizzarsi dovranno restare nelle camere singole ma con una vista impagabile sui laghi briantei Un balcone sul Monte Barro con vista sui laghi briantei per trascorrere la quarantena in sicurezza L'ostello dell'Eremo gestito dal 2013 da Legambiente Lecco è il primo Covid hotel della nostra provincia 10 pazienti affetti da coronavirus sintomatici e asintomatici una volta dimessi dall'ospedale Potranno passare in sicurezza al periodo di isolamento obbligatorio in camere singole In modo da non obbligare le rispettive famiglie a cambiare le abitudini Il servizio è accessibile anche a tutti coloro che rientrando dall'estero Devono effettuare un periodo di quarantena obbligatoria e ai loro familiari Legambiente ha risposto a un bando di ATS Brianza I pazienti potranno trascorrere la quarantena da oggi fino al 30 aprile La quota di rimborso prevista da ATS è di 80 euro al giorno per ogni paziente Per un totale massimo di 150.000 euro Una scelta senza dubbio meritoria quella dell'associazione Nonostante la grande richiesta sono poche le strutture ricettive che hanno risposto al bando Crediamo sia il periodo in cui serve un forte senso di responsabilità sociale Dichara Laura Todde, presidente di Legambiente Lecco in relazione a questa pandemia Insieme al Parco Montebarro, proprietario della struttura e al ristorante Eremo Che si occuperà della somministrazione dei pasti La nostra associazione ha deciso di aprire le porte dell'ostello A quelle persone che non hanno un luogo sicuro nel quale trascorrere il periodo di isolamento Riducendo così il contagio verso i familiari e congiunti in condizioni di fragilità Naturalmente, conclude la Todde, il nostro auspicio è quello di riprendere al più presto Le nostre attività ordinarie di ospitalità e formazione ambientale Peraltro con la garanzia data dai protocolli previsti da TS Che al termine di questa parentesi La struttura sarà poi sanificata al 100% Per offrire ai nostri futuri ospiti il massimo della sicurezza Per poter ripartire tutti insieme Nel periodo di quarantena all'Eremo I pazienti non potranno accedere agli spazi comuni Né uscire dalle stanze assegnate Finché non si saranno negativizzati A consolazione una vista impagabile Ad Airuno il piromane alza il tiro Questa notte è stata bruciata un'altra auto La quinta in due settimane La vettura era posteggiata nel parcheggio condominiale di un palazzo Nell'area residenziale a sud della provinciale Alla confluenza tra via Isonso e via della Libertà In fiamme una Fiat Panda I vigili del fuoco si sono portati sul posto Allertati dei residenti E hanno dovuto lavorare per quasi due ore Prima di riuscire a domare le fiamme Ormai non si tratta più di un sospetto Ma di una certezza Un gesto seriale su cui stanno indagando le forze dell'ordine Episodi che stanno seminando panico e paura tra la popolazione Siamo molto preoccupati Ma posso assicurare che non lasceremo nulla di intentato Per fermare il piromane Le parole del sindaco di Airuno Alessandro Milani La raccolta puntuale dei rifiuti funziona Ottimi risultati della sperimentazione avviata nell'Oggionese La differenziata ha fatto un importante balzo in avanti in tutti i comuni Raggiungendo punte del 91% Soddisfatti i sindaci e Silea Funziona la raccolta puntuale dei rifiuti Il nuovo sistema in sperimentazione nei comuni dell'Oggionese Sta dando ottimi risultati I rifiuti indifferenziati sono scesi del 40% Da 135 a 83 kg E la percentuale di differenziata ha fatto un importante balzo in avanti A ottobre rispetto allo stesso mese dello scorso anno A Colle e Brianza si è passati dall'82 all'85% A Dolzago dal 75 all'83 A Ello dall'87 a quasi il 91% A Lavalletta dal 75 all'86 A Oggiono dal 72 all'81 E infine a Santa Maria Oe dalla 75 a circa l'87% La media provinciale nel 2019 è stata del 71,3% Ed era pressoché stabile da anni Nel dettaglio la raccolta di plastica latina e tetrapack è aumentata del 45% Di carta e cartone del 25% La frazione umida dell'11% Il vetro dell'8% Tutti i rifiuti che prima finivano per errore o pigrizia Nell'indifferenziata Ma come funziona la raccolta puntuale dei rifiuti? Al posto del sacco trasparente Le famiglie sono state dotate di un sacco rosso Decisamente più piccolo Dotato di un chip ARFID che identifica il nucleo familiare In questo modo è stata contabilizzata con precisione La quantità di rifiuti indifferenziati prodotta in ogni casa Al fine di premiare Ma questo accadrà solo in una seconda fase Le famiglie che producono meno rifiuti Con una tari più leggera Per non penalizzare le famiglie con bambini e anziani Sono stati distribuiti su richiesta anche sacchi azzurri Destinati alla raccolta di pannolini e pannoloni Ingombranti e non riciclabili Soddisfatti i sindaci dopo i dubbi iniziali dei cittadini E dopo un primo periodo di smarrimento In cui sono stati registrati alcuni Fortunatamente pochi Casi di abbandono dei rifiuti La sperimentazione ha preso il volo Dando ottimi risultati Ora si le appunta a introdurre il nuovo sistema Anche in altri territori Come ad esempio il capoluogo Lecco Già in elenco per il prossimo anno Assolto perché il fatto non sussiste Fabrizio Parente Primario del reparto di gastroenterologia Dell'ospedale di Lecco Difeso dall'avvocato Stefano Pellizzari Era accusato di falso ideologico e truffa I danni della regione e dei pazienti Durante gli esami diagnostici Non avrebbe effettuato le visite specialistiche Che poi però risultavano nel pagamento del ticket Secondo le indagini scattate dopo la denuncia di un malato Accuse infondate come dimostrato oggi nel processo Che si è svolto con rito abbreviato in tribunale a Lecco Due ragazzi lecchesi sono tra i vincitori del bando Ciac in Lombardia Con i loro video hanno colto l'obiettivo del progetto Promuovere e rilanciare la Lombardia Tanti scorci del paesaggio lecchese Presenti nei cinque video premiati Da Mandello dell'Ario passando per l'Alpe Giumello Esino Lario e le cascate del Cengen Sono solo alcuni degli scorci lecchesi Presenti nei cinque video vincitori del bando Ciac in Lombardia Lombardia riparte Il progetto lanciato la scorsa estate da Regione Lombardia Rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni Ha avuto l'obiettivo di promuovere la Lombardia in Italia All'estero Rilanciando nell'immagine la reputazione In questo anno di grande difficoltà A causa dell'emergenza Covid 176 progetti audiovisivi Pervenuti ed esaminati da un nucleo di esperti Nel campo del marketing e del turismo Cinque vincitori I primi tre classificati Più due riconoscimenti speciali Tra loro spiccano due lecchesi Alessandro Valenti Di Ello Si è giudicato al terzo posto E la somma di 3.000 euro Con il video Lombardia, le sue genti, i suoi paesaggi Mentre Matteo Pozzoni di Cernusco Lombardone Ha ottenuto il riconoscimento speciale Montagne e libertà Con il progetto Lombardia al volo Il video terzo classificato di Valenti Realizzato con la collaborazione di Carlo Limonta Utilizza un linguaggio filmico Semplice e rarefatto Come l'ha definito la giuria L'anziano Beppi Ammira lo splendido panorama Sul lago di Como Offerto dall'Alpe Giumello E racconta ad un giovane ragazzo La storia delle genti Che hanno attraversato quel paesaggio L'elaborato di Pozzoni È stato invece scelto Per aver saputo promuovere La montagna Come destinazione ideale In grado di assicurare Libertà di movimento In sicurezza Con immagini spettacolari Come quelle alle cascate Del Schengen Il paesaggio lecchese Non manca nemmeno Negli altri tre elaborati Il progetto Lombardy Stars Again Del milanese Alessandro Panzeri Si è giudicato Il primo premio Di 5.000 euro Medaglia d'argento Per il Bergamasco Lorenzo Urbani Con il video intitolato Vieni Nel quale si riconosce Il castello Dell'inominato A Vercurago Infine il premio speciale Lombardy Out of Season È andato al Bresciano Cristian Rizzi Che ha messo meglio Il risalto Le esperienze Da vivere in montagna D'estate Ringrazio tutti i partecipanti Di questa seconda edizione Del Bando Ciacchi Lombardia Ha commentato L'assessore regionale Al turismo Lara Magoni Video emozionanti Empatici Molto belli Che hanno trasmesso La forza e l'energia Del territorio lombardo E oggi a Milano La cerimonia Di consegna Del premio Rosa Camuna La massima onorificenza Della regione Insignito Del riconoscimento Per il territorio Lecchese Sergio Longoni Fondatore La DF Sport Specialist Azienda Con 20 punti vendita Di articoli sportivi E 430 dipendenti Sostenendo gare E associazioni Sportive Benefiche Contribuisce A divulgare I valori Più veri Dello sport Sano Ed educativo Spiega La regione Chiusa da domani Fino al 3 dicembre In orario notturno La statale 36 Nel tratto Tra Bellano E Abbadia In direzione sud Per consentire Lavori di manutenzione E riasfaltatura La superstrada Sarà interdetta Al transito Dal chilometro 75 Al 59 Compresa La rampa D'ingresso Dello svincolo Di Bellano Il traffico Proveniente Da Sondrio Sarà deviato Lungo la provinciale 72 La 36 Sarà invece Regolarmente aperta Nei giorni Festivi E prefestivi Il comitato Di mirate Della croce rossa Promuove Per il periodo Pre natalizio Una raccolta Fondi Virtuale D'ogni donatore Un ringraziamento Speciale Da parte Dei volontari Vediamo di che cosa Si tratta Ogni anno Nel periodo Precedente Alle festività Natalizie Il comitato Di mirate Della croce rossa Italiana Promuove Nei mercatini Una raccolta Fondi Per finanziare Le attività Dell'associazione In questo particolare anno Segnato dalle misure restrittive Per il contenimento Della pandemia Da covid-19 I volontari Hanno ideato Un'alternativa Digitale Che permetta loro Di ringraziare Uno ad uno I donatori L'iniziativa Di reward crowdfunding Dal titolo Christmas is coming Babbo Natale Non è l'unico A vestire di rosso Permette di effettuare La raccolta fondi Sul web Appoggiandosi Alla pagina Produzioni Dal basso Il donatore Non deve fare altro Che scegliere La cifra da versare In cambio Riceverà Dei simpatici Regali virtuali Un videomessaggio Registrato Da un volontario Una chiacchierata Di qualche minuto Al telefono Un messaggio vocale Di ringraziamento Un biglietto Di auguri Personalizzato Da condividere Via mail O da stampare Il donatore Può scegliere Quale reward Ricompensa Ricevere Avrà così La possibilità Di scambiare Qualche parola Direttamente Con i volontari Scoprendo Come verrà Utilizzata La campagna Sarà attiva Fino al 22 dicembre Ha come obiettivo La raccolta Di 10.000 euro Per coprire I costi Già sostenuti E quelli futuri Per l'acquisto Dei dispositivi Di protezione A tutela Dei volontari E dei pazienti Trasportati E le spese Necessarie Per la movimentazione Dei mezzi Di soccorso Il comitato Di merate Attivo sul territorio Da più di 25 anni È stato tra i primi Ad intervenire Nel contrasto Alla diffusione Del virus Tramite il monitoraggio Dei viaggiatori Provenienti dall'estero Negli aeroporti Di Milano Linate Malpensa E collaborando Con le amministrazioni Comunali Del territorio Per la consegna Di generi alimentari E medicinali E cittadini In difficoltà In un momento Così difficile C'è dunque spazio Anche per ringraziare Chi fa sentire La propria vicinanza All'associazione I volontari Hanno trovato Il modo Di conoscere i donatori Dando importanza Ad ogni piccolo Gesto di aiuto E creando un contatto Seppure virtuale Tra persone Che probabilmente Vogliono dirsi Reciprocamente Grazie Rendendo questo periodo Un po' meno amaro Il consiglio regionale Ha approvato Una mozione Presentata Dall'esponente Lecchese Del PD Raffaele Straniero A sostegno Dei lavoratori Della Bismara Di Casa Tenovo Un voto unanime Che impegna La giunta regionale Farsi parte attiva Con il ministero Affinché Mettono in atto Tutte le misure Per salvaguardare Sia l'occupazione Dei 164 lavoratori Che la produzione Della storica Azienda alimentare Per ora è tutto Vi ricordo come sempre Che potete Seguire tutte le nostre news Anche sul sito Teleunica.com Grazie per averci seguito Buona serata Grazie per averci seguito